Ha giurato il nuovo governo palestinese d'unità un esecutivo di tecnici appoggiato esternamente sia da Fatah che da Hamas. Alla guida del nuovo esecutivo Rami Hamdallah che dallo scorso anno governava la Cisgiordania. Un'altra conferma, un po' più indigesta per Hamas, è quella di Riyad al-Malki al Ministero degli Esteri. Sulla sua figura c'era qualche malumore, come anche sul Ministero dei Prigionieri che resta sospeso. Tre ministri di Hamas mancavano al giuramento perché il passaggio dalla striscia di Gaza alla Cisgiordania non è stato autorizzato dagli israeliani. Il fatto che Hamas e Fatah tornino al governo insieme e quindi riuniscano le due parti della Palestina potrebbe in teoria semplificare i negoziati, ma per Benjamin Netanyahu il punto è un altro. Accogliendo Hamas, i palestinesi hanno costituito un governo con i terroristi, ha detto il premier israeliano, che ha convocato il Consiglio di Sicurezza del proprio esecutivo e chiede alla comunità internazionale di non riconoscere il nuovo governo palestinese. Grazie.